Allora voglio farvi vedere come realizzare questi centrini diciamo molto grossi. Io l'ho fatto utilizzando tre fili diversi di cotone colorati intrecciati insieme tutte piccole rimanenze che avevo. Ho usato il cotone perché ovviamente deve essere un materiale che non trasmette troppo il calore perché il sintetico altrimenti vi si attaccano le pentole. Quindi se lo volete usare come sottopentola dovrete usare un filato di cotone che abbia una percentuale bassissima di sintetico perché altrimenti poi vi si attaccheranno. Vedete io ne ho fatti cinque perché li uso sia come sottopentola vedete sono belli grossi quindi sono comodissimi come sottopentola sia come sottopiatti per i piatti che vanno in forno ad esempio se faccio qualcosa fatto al forno mi piace servirlo in tavola che lo vogliamo mangiare direttamente qui utilizzo questi come sottopiatti. E poi siccome io utilizzo dei piatti di vetro a me piace anche se voglio apparecchiare fare una cosina un pochino colorata ad esempio d'inverno quando faccio le minestre le zuppe sciolche le ciotole di vetro e mi piace fare un pochino una tavola così più colorata. Io ho utilizzato due schemi in pratica poi alla fine può essere usato lo schema di qualunque centrino. Allora adesso vi faccio vedere l'altro modello che sarebbe questo. Allora questa volta io faccio quattro catenelle 1 2 3 4 che chiudo insieme a cerchio solo quattro perché questo deve venire molto più stretto. Vedete è praticamente chiuso il cerchio di questo e quest'altro vedete qui questo è il buco. Ancora una volta io giro e mi fermerò il mio filo. Allora entro al centro di questo archetto di catenelle faccio una maglia bassa e una catenella che sostituiscano la mia prima maglia alta. Poi faccio una catenella che è quella che sarà in mezzo alle mie maglie alte e poi adesso faccio così. Entro e faccio una maglia alta, vedete ho caricato il filo, faccio una maglia alta, una catenella, una maglia alta, una catenella, vedete e faccio in questo archetto ne farò sei quindi una, due, tre e continuo alla tre. Una catenella e una maglia alta e questo è il sesto. E una catenella e mi riattacco alla mia prima maglia alta che era questa. Quindi lascio una catenella qua al centro che è lo spazio tra le catenelle dentro sotto con una maglia bassissima. Ecco qua e così ho chiuso, io ho fatto sei archetti, vedete, di catenelle, di maglie alte con catenelle in mezzo. Io ho sei buchi e sei maglie alte. Ok, adesso facciamo così, uno, due, tre catenelle, poi carico il filo sull'uncinetto e rientro sulla punta della maglia alta sotto dalla quale sono partita con queste tre catenelle e faccio una maglia alta. Questa io adesso la vado a chiudere nella punta della maglia alta successiva, quindi entro qua e la chiudo con una maglia bassissima. Poi ancora faccio una, due e tre, carico il filo e rientro qui dove ho chiuso questa con una maglia alta. Uno e due. Adesso ancora questa la chiuderò nella maglia alta successiva, vedete, proprio in questo spazio qui sopra la maglia alta, sempre con una maglia bassissima. E ancora farò uno, due e tre per tutto il giro, quindi una maglia alta, vedete qui dove ho fatto questa maglia bassissima, uno e due, e una maglia bassissima sopra la maglia alta successiva, chiudendola così. E poi ancora uno, due e tre e una maglia alta. Qua, nello stesso spazio dove ho fatto la maglia bassissima, e ancora nella successiva lo chiuderò con una maglia bassissima. Quindi ancora una, due e tre, una maglia alta qua, sempre in questo spazio dalla quale sono partita e dove ho chiuso la mia maglia bassissima. Faccio la mia maglia alta e poi la chiudo ancora una volta qua, dove nella maglia bassissima successiva. E poi ancora una, due, tre, una maglia alta sempre qua. E chiudo con una maglia bassissima qua, da dove sono partita. Entro qua e faccio la mia maglia bassissima. Ecco qua, vedete, e ho fatto il mio primo giro con le mie sei punte. Vedete, viene tipo questa stellina qua, com'è appunto, vedete, il centro del mio schema. Allora, per partire il giro successivo, io entro in questo spazio del primo archetto, tiro sul filo con una maglia bassissima e ancora faccio una maglia bassa al centro dell'archetto, perché io dopo mi dovrò andare a riattaccare qua, nel mezzo a quest'archetto qua. Quindi adesso io faccio sette catenelle tra un archetto e l'altro. Quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. E mi vado ad attaccare nell'archetto successivo con una maglia bassissima e mi vado ad attaccare nell'archetto successivo con una maglia bassissima. E finisco tutto il giro quindi attaccandomi, vedete, a questi archetti qua dentro, entrando qui dentro questi archetti che si sono creati, facendo degli archetti di sette catenelle. Ecco qua, questo è il sesto che ovviamente andrò a chiudere qua in quello di avvio con un punto bassissimo. Ecco qua. Adesso il giro successivo lo faremo così. Allora, due catenelle che è la mia prima maglia alta, poi io dovrò fare sempre quattro catenelle tra uno spicchio e l'altro, quindi uno, due, tre e quattro, e mi attaccherò. Una volta con una maglia bassa qui al centro del mio archetto, che ho fatto adesso di sette, quindi queste sono quattro catenelle diciamo in alto e una maglia bassa. Ora ancora quattro catenelle, una, due, tre e quattro, e una maglia alta qua, al centro, dove ho questa maglia bassissima sotto. Mi vado ad attaccare qui alle maglie della mia maglia bassissima e faccio una maglia alta. Una, due, tre e quattro, e adesso ho l'archetto, quindi una maglia bassa qua. Ancora, uno, due, tre e quattro, e qui farò una maglia alta attaccandomi qui all'attaccatura degli archetti, quindi entrando qui dentro questa maglia bassissima che ho fatto prima e lavorando la mia maglia alta. In questo modo adesso avrò, avrò dodici spicchi, perché di ogni spicchio me ne viene due, quindi adesso alla fine di questo giro io farò sempre così, quattro catenelle e una maglia bassa sulla punta, quattro catenelle e una maglia alta nello spazio tra le due archetti, quattro catenelle e una maglia bassa, quattro catenelle e una maglia alta per tutto il giro. Allora, io ho fatto qui la mia maglia alta, vedete, qua nel centro dei due archetti sotto, ancora quattro catenelle e qui una maglia bassa nell'archetto, ancora quattro catenelle, uno, due, tre e quattro, e qui mi vado a riattaccare a dove sono partita, quindi mi conto da sopra una, due, tre e quattro e dentro qua nella maglia sotto che è in cima, diciamo, come se fosse già stata fatta la mia maglia alta nell'incrocio delle due catenelle, vedete, adesso io devo avere uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici spazi fatti da queste quattro catenelle e agganciate al lavoro sotto. Allora, scusate se è cambiato colore, ma mi sono accorta che mancava un pezzo di video, quindi l'ho dovuto rifare, quindi questo passaggio qui ve lo faccio vedere con quest'altro filato, poi continuerà il video col filato video originale. Allora, finito questo giro, facciamo così, facciamo una catenella che sarà la mia prima maglia bassa, poi faccio quattro catenelle, una, due, tre e quattro, e poi farò due maglie alte nella prima catenella che ho creato, quindi una maglia alta, carico ancora il filo, rientro sempre nella prima catenella e faccio un'altra maglia alta, ecco qua. Adesso mi attacco qua, su ogni maglia bassa che ho fatto, o maglia alta, vedete, a ogni maglia che ho attaccato sotto, io mi attaccherò adesso con questo schema, quindi la prima è questa, entro dentro la maglia bassa e chiudo con un'altra maglia bassa, in modo da creare la maglia bassa successiva alla quale attaccherò le mie maglie alte. Quindi io farò sempre così, uno, due, tre, quattro, prendo il filo, rientro qui nella prima maglia bassa che ho creato, quindi qui alla base delle mie maglie, delle mie catenelle, e faccio due maglie alte, quindi una, carico nuovamente il filo, rientro qua e due maglie alte. E ancora, vedete, vado a ricercare la punta di questa maglia che è all'incrocio degli archetti e faccio una maglia bassa. E questa maglia bassa è dove io rientrerò, quindi ancora uno, due, tre, quattro catenelle, carico il filo, entro in questa maglia bassa che ho appena creato, faccio una maglia alta, carico nuovamente il filo, rientro qua e faccio un'altra maglia alta. Ecco qua, e ancora andrò a riattaccarmi qua alla maglia successiva con un'altra maglia bassa. Ecco qua, questo è lo schema che io continuerò per tutto il giro, quindi io farò sempre quattro catenelle, due maglie alte qui in questa maglia bassa qui e farò un'altra maglia bassa qua a questo incrocio, poi all'incrocio successivo in pratica ad ogni base di questi archetti che ho fatto, quindi alla base di ognuno di questi archetti io mi riattaccherò con una maglia bassa e alla fine avrò questo motivo che sembreranno delle punte quando avrò finito il giro. Adesso ritorniamo al video originale. Ecco qua, ho fatto le ultime, vedete, dall'ultima maglia bassissima, quattro catenelle e due maglie alte, mi vado a riattaccare alla base delle mie prime quattro catenelle da dove sono partita, sempre con una maglia bassissima. Vedete, adesso ho fatto, ho 12 di queste puntine qua. Adesso per chiudere il lavoro io adesso farò semplicemente degli archetti di 7 catenelle tra una punta e l'altra, quindi qui mi devo entrare sotto come ho fatto prima, vedete, con una maglia bassissima, dopodiché faccio una maglia bassa per salire al centro di questo archetto e da qui io farò semplicemente 1, 2, 3, mi raccomando stringeteli bene questi, 4, 5, 6 e 7 e mi attaccherò, vedete, semplicemente qua all'archetto, sì, no, mi aveva girato il lavoro, ok, 7 e mi attacco qua, entro nell'archetto che ho subito dopo e continuo così per tutto il giro, quindi farò 7 catenelle, tutti archetti di 7 catenelle che andrò ad attaccare, vedete qui, alle punte di queste, a queste puntine che ho fatto, vedete, che sono tutti archetti, le archetti di 4 catenelle che ho fatto sotto, quindi io mi attaccherò a tutte queste puntine con archetti di 7 catenelle per fare questo giro qua esterno e chiudere il mio lavoro. Ecco qua l'ultimo archetto di 7 che io andrò ad attaccare qua alla base di queste 7 catenelle con le quali sono partita con una maglia bassissima, lo chiudo. Ecco qua, finito il giro e questo è il risultato, vedete, poi appena lo inizierete ad utilizzare, vedete anche questo diventa, se lo dovete regalare, stiratelo prima che così verrà più compatto, se invece è per voi, appena ci appoggerete la prima pentola, vedete, si stira benissimo da solo, perfettamente, rimarrà ben schiacciato, adesso è un pochino ondulato, però verrà proprio bello schiacciato appena metterete la prima pentola. Un altro modo di fare questi sotto pentola è molto bello, a me non piace particolarmente, però, che può essere fatto, è con la lana facendola infiltrire, si andrebbe affatto più grosso, quindi con un uncinetto invece che dell'8, vi consiglio un 10 o un 12, molta più lana, io qui l'ho fatta a 4 fili, quindi 4 fili per un 8, contate che per un 10 ne mettete almeno 6 e per un 12, almeno 8 fili, deve venire proprio grosso grosso, lo fate tutto in lana e poi lo lavate in lavatrice, con un lavaggio del bucato, di quelli magari a 60 gradi, in modo che si infiltrisca. Una volta tolto dalla lavatrice, lo stirate e viene proprio tipo la lana cotta, cioè l'effetto è quello della lana infiltrita e viene molto bello anche quello, a me non piace molto, quindi io non lo farò il tutorial con la lana infiltrita, però è molto semplice, semplicemente lo fate più grande perché poi restringerà, usando più lana e mettendola semplicemente in lavatrice alla fine di tutto e stirandola poi per ridargli la forma schiacciata e vengano insomma molto belli anche quelli. Ecco qua, quindi questi sono i miei due che ho appena realizzato con gli schemi che vi ho fatto vedere, vedete questi sono nuovi, questi sono già usati da tanto, io ce li ho già da tanto tempo, sono belli, vedete rimangano molto più rigidi e più schiacciati e questo è il risultato.